per farla funzionare devi mettere una mano qua oppure questa qui la tieni in sospensione si ricordi che lei c'ha due? uno e due io c'ho tre tu c'hai tre, lei e due è meglio se lo faccio però con quest'altro adesso io la pella rilassata devi essere leggera, questo è il forzo della leggerezza, tutto quello che succede, è fivero ti sai che è fivero? io sono l'abbondanza delle fierezze belli, ecco qua, edo, 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 edo e rullare, e noi vuoi rullare, ho capito, c'è una campana guardate che rullare in certi ambienti è una cosa un po' come si dice Senti come io me la porto? Senti, senti. Uno e due. Senti, senti. Una e due. Senti, senti. Una e due. Senti, senti. Una e due. Dacci dentro, dacci sotto. Su, dai, solo con la lavatrice fai. Dai, su. Ma la lavatrice è meglio, eh. Non mi fa male la spalla così. Su. No, tutti ci impegni. La vuole dondolare lei? Tutti ci impegni, via. Mi ci impegno? Ma tu vuoi anche dondolare? Mi arrivo a morte. Ok, ricordiamoci sempre che i miei obiettivi sono loro, eh. Tu me lo puoi mettere anche sopra, eh. E tu me lo puoi anche. Lo trovo a mettere sopra? Certo. Puoi appoggiarla anche sopra. Sì. Ancora si lo sa qui. Vai. E poi schiaccia. Eh? Sì, ma mentre la rulli, eh. Mentre rulli. Mentre rulli la schiaccia. Brava. Rulla e schiaccia. Tu mi fai vibrare tu. Rulla e schiaccia. Adesso in questo modo non ti stai attivando su una chakra. Ok? Il primo è quello della passata, eh. Eh sì. Però vedi che stai facendo? Lei stasera dopo avrà bisogno della lavatrice. Della lavatrice. Quindi preparati. Che menetti. Preparati con ti vuoi tu perché dopo avrai questa attivazione. Va bene? Va bene. Allora Cinzia e Alessandra. Adesso la concentriamoci sui nostri meravigliosi operatori. È un pez genio. È un pez genio. Ma non sia passata. Tu hai bisogno di suo세zti nellusive a 되어 intozza assisting Google錢. E con ness Sabina che v amenate da una taccia che si staimatic mano è a proposta.